Al via la campagna social, la scuola per me, molti ne parlano, tanti ne sottolineano il valore, per tutti deve essere una priorità, per questo il Ministero dell'Istruzione ha deciso di rendere omaggio alla scuola e al ruolo che riveste nella vita di ciascuno e ciascuno di noi, con la campagna social, la scuola per me, che raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini, insomma un racconto collettivo dedicato alla più importante istituzione del paese, che è appunto la scuola. A raccontarlo sono Elena, Anna, Benedetta, Marco, Alex, Asi, Enrico, Natali, Beatrice, Rachele e Giorgia, studentesse, studenti, docenti, genitori, che hanno collaborato alla realizzazione del video di lancio della campagna del Ministero. Hashtag la scuola per me. La scuola per me è crescita. La scuola per me è un piccolo mondo che ogni giorno ci pone davanti delle nuove esperienze, delle difficoltà, ci fa fare nuovi incontri che ci aiutano a capire chi siamo. La scuola per me è ordine e caos, il luogo dove si cresce, perché dove c'è movimento c'è vite, nella scuola le vite prendono forma. La scuola per me è un luogo sicuro, dove posso mostrare le mie debolezze senza timore. La scuola per me è la possibilità di apprendimento educativo e culturale. La scuola per me è il posto in cui ho trovato me stesso. La scuola per me è la mia seconda casa, è dove posso fare nuove esperienze, è dove posso accrescere la mia cultura. La scuola per me è il corrisso di Rachele. La scuola per me è la libertà di crescere insieme, di scoprire il mondo. Lasciateci viaggiare!